Con l'autore del gol che ha sbloccato la partita, Lorenzo Farindolini, intanto complimenti, undicesimo marcatore del Chieti, questo significa che siete una cooperativa del gol. Ringrazio per i complimenti, oggi è toccato a me ma poteva toccare a chiunque perché questa è una squadra che ha fame, ha voglia di giocare le partite a viso aperto, di attaccare e quindi vogliamo fare gol tutti quanti ma perché ci crediamo sempre e crediamo nelle nostre capacità. Oggi anche con un po' di fortuna è toccato a me e sono molto contento ma la cosa più importante è che la squadra ha portato a casa i tre punti. Anche se non è stata una partita così semplice come ci si poteva chiaramente aspettare, Lanciano a zero punti ma abbiamo visto che Lanciano soprattutto nei primi tempi ha sempre dato del filo da torcere un po' a tutte le squadre e quindi siete stati anche bravi ad aspettare e poi a colpire nel momento giusto. Sì assolutamente, Lanciano per me è una buona squadra e gli undici titolari presi singolarmente sono un'ottima squadra a mio avviso, solo che stanno passando un momento di difficoltà quindi non è semplice giocare e fare punti. Noi abbiamo avuto la pazienza di fare le nostre giocate, sapevamo che comunque loro fisicamente potevano soffrire più di noi e alla fine siamo stati bravi e fortunati a sbloccare la partita e poi diciamo che è andata in discesa. Grazie a tutti.